Ciao sono Mauro, consulente Dacia di gruppo Carmeli. Oggi saliamo a bordo della nuova Dacia Sandero Streetway TC e benzina da 90 cavalli. Nuova Sandero si è rinnovata completamente rispetto alla versione precedente. Nuove le linee esterne con i nuovi gruppi ottici a led, nuovi interni più ergonomici e rifiniti. Novità unica nel segmento è il nuovo display touchscreen da 8 pollici. Inoltre nuova Sandero offre più spazio per i passeggeri e un bagagliaio aumentato fino a 328 litri di capacità. Nuovissimi anche i sistemi di sicurezza tra i quali la frenata d'emergenza attiva, gli airbag a tendina posteriori e il pulsante SOS per la chiamata d'emergenza. Infine nuovi motori, tutti Euro 6 di full, si parte con un 1000 benzina da 65 cavalli, un turbo benzina da 90 cavalli e il turbo benzina da 100 cavalli con alimentazione b-fuel, benzina e GPL. Nuova Sandero è disponibile inoltre in otto colorazioni tra cui il bianco, il grigio cometa, il grigio magnete, il nero metallizzato, il rosso fusion, il grigio lunare, il blu iron e l'arancio Atacama. Se vi è piaciuto il video lasciate un commento qui sotto o chiamateci allo 030 77 24 011. I nostri consulenti saranno a vostra disposizione.